Ciao mitici, video di recensione di questi anfibi della Magnum che mi sono arrivati ieri da Amazon andiamoli a vedere addosso e poi andiamo a vedere staccati vediamoli addosso ho avuto già in passato diverse anfibi della Magnum non c'è niente da fare, ogni volta che provo a cambiare marca poi dopo, quando riprendo un Magnum dico beh, è proprio un'altra cosa ora mi ritorgo e andiamo a vedere bene allora guarda, qui abbiamo un velcro e dopo c'è la sala cinesca la sala cinesca è importante perché l'anfibio una volta che è chiuso con la sala cinesca deve essere un tutt'uno è come se la sala cinesca non ci fosse sarebbe solo per sfilarlo più facilmente l'importante è questo cancetto qua perché servirà per rimettere l'anfibio per togliere invece basta semplicemente fa pressione così e viene via io porto il 44 il 44 ho preso eccolo qua ne esistono dei vari modelli questo ha la parte dietro che è abbassata il che lo rende molto molto più scarposo non è diciamo proprio brutto da portare nel senso che senti il polpaccio incastrato ti dà proprio la sensazione di essere come una scarpa e vedete questi buchi qua? questo è proprio un anfibio perché l'acqua può uscire una volta che magari tu vai a attraversare un fiume e per qualche motivo tutto il piede va dentro l'acqua al momento che tu continui la tua marcia il tuo cammino l'acqua ha degli spazi dove può fuoriuscire e quindi e quindi ti lascia il piede a modo di asciugarsi non è quelle scarpe che sono completamente chiuse, sigillate se l'acqua per qualche motivo entra che mette il piede poi esce qui vedete che c'è questa questa imbottitura qua sembra quasi fibra di carbonio come tipo di disegno non credo proprio che possa essere fibra di carbonio e andiamo a vedere il materiale che viene proposto qua si chiama Cordura Cordura io so Cordura non lo so io so il Gore-Tex conosco Cordura non lo conosco però probabilmente sarà uno di questi materiali tecnici che fa parte dell'imbottitura vediamo la taglia che è un 44 europeo 10UK Magnum vedete che c'è lo spazio là per scrivere il nome giustamente se viene preso che ne so da dei militari o gente che c'è uno spogliatoio in comune guardie giurate o altro hai lì lo spazio per per andarci a scrivere il tuo nome questo è stato messo solamente oggi quindi è la scarpa è la scarpa così nuova così come si presenta qui abbiamo il brand Vibraman sarà il brand di chi gli ha fornito la la suola vedete come è fatta la scarpa dice il brand di chi ha fatto la suola il brand di chi fa l'imbottitura dentro e poi c'è il brand di Magnum che è questo qua eccolo qua Magnum è un ottimo rapporto qualità prezzo lo stesso brand lo vediamo riportato dietro qui la X e qui al momento di rimetterlo adesso sto con una cosa mi sta benissimo se riesco mentre faccio il video a mettere a mettere l'amfibbio allora vuol dire che proprio proprio sono un grande allora devo mettere il dito nell'asola ok ecco fatto ragazzi calcolate che ero scomodo però eccolo qua il trucco è una volta aperto dirà su questo qua vedete quanto è importante che sia resistente la saracinesca perché io faccio così forzo se io rompessi la saracinesca in questo atto che insomma è possibile veramente l'amfibbio andrebbe buttato con i Magnum provati per anni cioè il brand provato per anni non è mai successa questa cosa qua quindi questo non l'ho provato anni l'ho comprato solo ieri ma ho fiducia che possa resistere perché insomma hanno una loro reputazione da difendere e l'acquisto della saracinesca è molto importante niente riprendete chiudete il legaccio dopo averli messi come vi stanno comodi stretto quanto vi pare dopodichè con questo metodo qua avete la possibilità di toglierli e metterli anche più facile di un normale paio di scarpe da ginnastica una volta presa la mano e e vanno bene per tutte le stagioni ci si cammina in pieno agosto e ci si fanno i trekking in pieno agosto come in pieno inverno questo assolutamente non è una scarpa fredda adesso e non sarà una scarpa calda per l'estate anzi vi respira molto più il piede con una scarpa come questa con queste aperture piuttosto che con una scarpa da ginnastica anche di marca che possa essere Nike o altro risulta essere più fresco e più caldo di tantissime altre soluzioni ciao mitici mh mh